di servizio all'ulso sette pedemontana anche sui social forti critiche dei cittadini contro i vertici della sanità fratelli d'italia presenta i candidati il capolista adolfo urso annuncia con noi arriverà l'autonomia del veneto consegnate in comune altre mille firme per tutelare l'area di san lazaro i cittadini chiedono risposte rapina mano armata in un bar di asolo il malvivente punta il coltello alla golla della titolare poi fugge vilipendio alle forze dell'ordine le fiamme gialle denunciano un cittadino per offese tramite web paura questa mattina a pove del grappa anziana esce di strada con l'auto distrugge una colonnina del gas una poiana resta intrappolata nel filo spinato in località sasso di asiago salvata dai vigili del fuoco e per i giovani dai 18 ai 35 anni arriva all'ostello di bassano il progetto di coabitazione balto cittadella la giunta comunale approva il piano per il lavoro agile per i dipendenti del municipio buonasera a tutti voi telespettatori nuova edizione serale di bassano tg avete sentito non fossero bastati i nostri servizi quotidiani proprio sui disservizi nell'ulse 7 pedemontana arrivano ora anche i commenti sui social di tanti cittadini critici contro i vertici della sanità sentite disservizi e disagi degli utenti dell'ulse 7 pedemontana ne abbiamo raccontati a centinaia le voci dei cittadini raccolte da rete veneta hanno raccontato il disagio le difficoltà e i problemi incontrati dai pazienti nel rapporto con la sanità bassanese ma anche sui social le critiche e le richieste di intervento cominciano a moltiplicarsi è bastata una diretta da palazzo balbi su un tema sanitario per accendere la miccia pensate anche al san bassiano questa è una situazione insostenibile lo state distruggendo chiede un'altra persona e ancora si fatica a trovare il personale anche la diffusione dell'idea di abbellire i dintorni dell'ospedale ha provocato commenti negativi siamo all'assurdo meglio potenziare nell'ospedale invece di fare bello intorno e ancora il destino dell'ospedale è la chiusura fate funzionare bene i reparti dei chilometri per le visite non si interessa nessuno e via così questa è solo una piccola selezione di quanto si legge pubblicamente sui profili facebook dei vertici regionali voci dei cittadini voci che attendono risposte e per questo i nostri microfoni sono sempre aperti per tutti e i cittadini pongono continue domande e anche noi in questo caso una le riassume tutte dopo 130 giorni in cui abbiamo rivolto le nostre tre domande al direttore generale carlo bramezza alla politica regionale e a voi cittadini non abbiamo ricevuto nessuna risposta questo ci spinge a chiederci e a chiedervi ma allora chi tace a consente e fratelli d'italia presenta i candidati per il territorio bassanese alla camera e al senato fratelli d'italia presenta i candidati alla camera e al senato per il territorio bassanese e lo fa forte di sondaggi che darebbero il partito di giorgia meloni sforare la soglia del 30 per cento in veneto proiezioni che se confermate dal voto porterebbero a roma almeno 14 15 parlamentari veneti silvio giovine mattia yerardi alessandro urzi e il capolista adolfo urso presidente del copasir con una lunga esperienza politica nazionale e internazionale alle spalle c'è da fronteggiare subito la drammatica situazione energetica urso tende una mano al settore turistico veneto duramente colpito in questi anni abbiamo necessità di aiutare queste imprese innanzitutto promettendo una cosa che ove arrivasse una nuova pandemia perché purtroppo ci può essere una nuova variante noi sapremo con più saggezza coniugare le esigenze del mondo produttivo non si può fermare la produzione e per quanto riguarda il settore agricolo oltre a quello che dicevo prima noi siamo consapevoli che bisogna realizzare una filiera alimentare completa bisogna tornare a produrre a proteggere la produzione italiana ed europea tema caldo ma idee chiare per quanto riguarda l'autonomia insieme a tutta la classe puri del veneto su indicazioni giorgia meloni voglio darvi un'assicurazione sarà il governo di centrodestra guidato da fratelli italia da giorgia meloni a realizzare in maniera compiuta l'autonomia pensiamo di poter dire e dare qualche cosa in termini di stabilità e anche di chiarezza e di certezza che il nostro primo interesse è quello degli italiani dell'italia e del veneto come realtà pronto un piano per i primi 100 giorni di governo l'assessore donna zan ne sintetizza alcuni passaggi dovremmo difendere le aziende italiane e venete che subiranno un grave contraccolpo queste sono le priorità e poi le riforme di lungo respiro tra cui quello dell'autonomia se il dato del 30 per cento in veneto dovesse essere confermato metterebbe fratelli d'italia davanti a precise responsabilità una grandissima responsabilità anche perché io vengo dal mondo delle botteghe dell'industria sarà un autunno molto difficile dobbiamo partire da chi crea veramente pilla dobbiamo aiutare chi il lavoro lo crea e chi i soldi li crea non ci interessa dal reddito di cittadinanza non ci interessano le mance e il metadone di stato che è stato usato fino adesso fratelli d'italia vuole aiutare veramente le imprese perché fratelli d'italia arriva dal mondo delle imprese è chiaro che l'emergenza energetica oggi deve essere i primi posti dell'agenda di qualsiasi tipo di partito che si vuole porre come il nostro come il traino di una coalizione che poi deve avere la responsabilità di governare tutelare San Lazzaro e non consentirne la cementificazione questo è l'obiettivo della petizione tra i cittadini che hanno toccato quasi 2000 firme la storia, la cultura, l'ambiente, il paesaggio stanno a cuore ad un numero sempre più alto di bassanesi e non solo erano mille il 30 giugno le firme consegnate all'ufficio protocollo del comune a sostegno della petizione per tutelare i campi a sud di Bassano l'area di San Lazzaro da nuove edificazioni produttive, industriali e artigianali adesso si raddoppia perché in data primo settembre l'associazione bassanese per il rispetto ambientale ne ha consegnate altre mille all'attenzione del sindaco Elena Pavan, della giunta e dell'intero consiglio comunale sulla zona incombono quattro progetti, tre ad ovest della roggia rosà, uno a est in particolare nell'area verso via Rambolina sarebbe previsto un capannone che da solo misurerebbe 70.000 metri quadri così grande da riuscire a coprire l'intero centro storico di Bassano quelle aree agricole sostengono i firmatari della petizione sono patrimonio della città e hanno caratteristiche storiche e paesaggistiche uniche testimoni della sapienza nel prendersi cura della terra e nel governare l'acqua a seguito del primo deposito di firme del 30 giugno la sindaca Elena Pavan ha risposto alla petizione il 28 luglio comunicando che deciderà il consiglio comunale entro fine settembre a norma di statuto e regolamenti comunali dovrebbe decidere sull'esito della richiesta inoltrata motivando per iscritto con una risposta in caso di diniego i primi mille firmatari quindi ancora non sanno se la petizione sarà effettivamente tenuta in considerazione e ancor meno lo sanno gli altri mille i cui nomi sono stati appena consegnati in municipio i cittadini vogliono sapere se l'amministrazione intenda o meno preservare una delle ultime aree della zona agricola di pianura così come previsto negli strumenti pianificatori comunali le deroghe esistono e per legge sono possibili ma la volontà dei cittadini ormai 2000 nero su bianco è chiara San Lazzaro deve restare così com'è e ci occupiamo ancora del sentiero Natura chiuso per una frana ormai da due anni i lavori sono appena iniziati ma i divieti di transito non sono sempre rispettati nonostante i cartelli di divieto presenti ormai da una decina di giorni il sentiero Natura lungo la sponda sinistra del Brenta continua ad essere percorso da camminatori la provincia di Vicenza ha iniziato i lavori di sistemazione della scarpata in prossimità dell'istituto Parolini a seguito del dissesto del muro in sasso esistente franato per le piogge dell'agosto 2020 la ditta incaricata ha segnalato la presenza di persone estranee nell'area di cantiere le macchine in movimento terra e le operazioni in corso rendono inagibile il percorso presumibilmente fino a dicembre l'opera metterà in sicurezza i terreni del Parolini e preserverà l'argine e il percorso tanto amato dagli escursionisti e la seconda commissione in consiglio regionale nel corso della seduta di oggi ha approvato all'unanimità il parere alla giunta regionale relativo al piano di vendita di 51 alloggi di cui 37 sfitti e 14 occupati di edilizia residenziale pubblica del comune di Bassano ora invece ci spostiamo alla cronaca parliamo di un rapinatore solitario in azione a tarda sera in un bar a Casella d'Asolo il contello è stato puntato alla gola di una dipendente che ha arraffato poi 600 euro ed è scappato si è infilato subito all'interno del banco ha preso, era con sé un coltello di 20 centimetri e l'ha appoggiato sul collo della nostra barista e dopo io ho sentito la voce Matteo ho provato a prenderlo ma era troppo veloce era sicuramente un giovane comunque molto rapido e ha fuggito via in pochi secondi è entrato da una porta sul retro quando era da poco trascorsa la mezzanotte pochi avventori all'interno una ventina all'esterno incappucciato con occhiali scuri guanti e un coltello tra le mani quello usato per minacciare la barista e farsi aprire la cassa per la ragazza sono stati momenti di terrore quelli vissuti a tarda sera al caffè Manin nell'omonima via di Casella d'Asolo è avuto un bel shock forte un bel shock a pianto un blitz quello del rapinatore solitario fuggito con un bottino di 600 euro che ha lasciato increduli anche i clienti nel retro c'erano due persone sedute su un tavolino hanno visto questo personaggio arrivare ha avuto tutto completamente coperto ma non si sono resi conto in quel momento che poteva succedere certe cose sul posto sono intervenuti nella notte i carabinieri di Pieve del Grappa quindi mattinata i colleghi di Asolo che hanno acquisito i filmati del locale e del condominio e sono ora alla ricerca di ulteriori riscontri nelle stradine esterne per il titolare del locale oltre al rischio corso dalla dipendente l'amarezza di essere stati presi di mira in un momento così delicato già i nostri problemi tra bollette, salassi e robe varie del commercio che è già preso in ginocchio post-covid adesso ci mancava l'attenzione anche su questi furti in 15 anni di attività non ho mai avuto questi problemi e adesso bisogna stare molto all'occhio e a Bassano un 22enne è stato arrestato per aver tentato di rapinare una banca e un altro arresto è avvenuto anche a Tiene sentite tentata rapina la BCC di quartiere Firenze a Bassano nel pomeriggio di ieri un 22enne è entrato nell'istituto di credito e ha iniziato a minacciare verbalmente gli impiegati intimando loro di consegnargli il denaro i dipendenti sono riusciti a dare l'allarme alla centrale operativa dei carabinieri che in pochi minuti sono arrivati sul posto i militari sono riusciti a bloccare il giovane che dopo la perquisizione sarebbe risultato disarmato per lui sono scattate le manette e oggi l'arresto è stato convalidato a Tiene invece è finito nei guai un 46enne di origini marocchine già noto alle forze dell'ordine arrestato dai carabinieri per rapina e lesioni personali dolose l'uomo si era impossessato di alcuni prodotti dagli scaffali di un supermercato nascondendoli in un marsupio scoperto si è scagliato contro un addetto alla vigilanza provocandogli ferite giudicate guaribili in dieci giorni ora ci spostiamo a Pove del Grappa per un incidente questa mattina con un'anziana ferita che con l'auto ha urtato una colonnina del gas abbattendola finisce con l'auto fuoristrada e demolisce una colonnina del gas paura questa mattina a Pove del Grappa in via Costantina per l'incidente che ha visto coinvolta una 84enne la donna era alla guida della macchina quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è andata ad urtare contro il muretto di recensione di una casa colpendo anche la condotta del gas che è iniziato a fuoriuscire sul posto i vigili del fuoco i tecnici della rete di distribuzione del metano e la polizia locale l'anziana rimasta ferita è stata portata in ospedale aveva scritto commenti offensivi dopo un'operazione delle fiamme gialle ad Asiago e gli agenti l'hanno denunciato per vilipendio la guardia di finanza di Vicenza ha denunciato un uomo residente nell'altopiano di Asiago per vilipendio delle forze armate a luglio sulla pagina facebook di un giornale locale era stato pubblicato un post relativo a un'ordinanza di chiusura per 15 giorni di un locale nel quale erano state somministrate bevande alcoliche a minorenni l'uomo nei suoi commenti sosteneva che l'esposto giunto alle forze dell'ordine fosse stato creato ad hoc aggiungendo anche altre affermazioni offensive contro gli agenti l'autore è stato identificato dai finanzieri della tenenza di Asiago e per i giovani che hanno il desiderio di fare un'esperienza di coabitazione si aprono le porte dell'ostello di Bassano si chiama Balto il progetto promosso dal consorzio rete Pictor e fondazione Pirani Cremona che propone un'esperienza di co-living di coabitazione all'ostello di Bassano dedicata ai giovani dai 18 ai 35 anni l'obiettivo risponde principalmente a due questioni una grossa questione dell'abitare è una grossa questione dell'abitare una grossa questione dell'abitare intesa come autonomia e possibilità di avere un'autonomia e quindi un posto dove stare e l'altra questione dell'abitare è l'abitare non solo una casa ma abitare una comunità e abitare un territorio i giovani che entreranno a far parte del progetto in questa prima fase saranno quattro abiteranno insieme per sei mesi nell'ostello di Via Chini con un affitto agevolato di 100 euro al mese e sperimenteranno anche un'esperienza di cittadinanza attiva che li impegnerà per 10 ore la settimana tre sono diciamo le aree che abbiamo legato rispetto alle pratiche di attivazione che sono anche legate all'ambiente per esempio come tema al sociale più in generale ma anche per esempio le competenze artistico-culturali quindi sceglieremo anche in base all'attitudine dei ragazzi Balto è sicuramente una proposta innovativa nel territorio bassanese e la speranza degli organizzatori è quella di vedere aumentare gli spazi dedicati al progetto e ci farebbe molto piacere se il progetto va ma mi sembra che ci siano tutte le premesse perché sia un progetto di successo abbiamo anche un altro bel appartamento con sei stanze che stiamo ora sistemando ma è già molto avanti la sistemazione dove ci sono sei camere doppie con letti doppi una bella cucina un soggiorno insomma una bella situazione che potrebbe poi godere di tutto il nostro parco che abbiamo qui che è di 8.000 metri e quindi insomma insieme ci sarebbe anche poi un discorso proprio del vivere e il vivere bene c'è un'esigenza di autonomia c'è un'esigenza anche di stare con i propri coetanei e ci sarà anche l'opportunità certamente in tutto questo anche di proporre esperienze occasioni itinerari perché anche i giovani possano sperimentarsi e crescere sotto aspetti anche di interesse culturale, sociale, ambientale e vediamo ora altre notizie dal territorio è di tre feriti il bilancio dell'incidente frontale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri all'interno della galleria di Arsie a scontrarsi un bus turistico e un'autovettura ad avere la peggio la coppia che viaggiava nella macchina un uomo e una donna entrambi trasportati all'ospedale in alisoccorso uno a Bassano l'altro a Feltre assistito sul posto dal Suem anche l'autista della Corriera rimasto lievemente ferito il traffico lungo la galleria rimasto chiuso per diverse ore con lunghe code anche in Val Sugana i vigili del fuoco sono intervenuti in località Sasso ad Asiago per liberare un rapace rimasto incastrato in una recinzione di filo spinato i pompieri hanno liberato la poiana che è stata poi affidata alle cure di un veterinario nella speranza che possa tornare a volare in occasione della 97esima edizione della gara ciclistica a Astico-Brenta giovedì 8 settembre la viabilità cittadina subirà alcune modifiche temporanee il percorso tra le 15 e le 16 passerà per Gaggion Alto San Michele San Giorgio San Teusebio Ponte della Vittoria e Viale De Gasperi Ed è stato approvato dal Comune di Cittadella il Pola Piano Organizzativo del Lavoro Agile per i Dipendenti La pandemia quasi alle spalle il Comune di Cittadella ha deciso di organizzare in modo puntuale l'applicazione e la concessione del lavoro agile sperimentato dai dipendenti nel periodo del lockdown per questo con la delibera di giunta 246 del 2022 la giunta Piero Bon ha approvato il Pola il Piano Organizzativo del Lavoro Agile una piccola rivoluzione che porta a favorire la gestione del lavoro per obiettivi risultati sviluppare la digitalizzazione delle attività sostenere la conciliazione di tempi di vita e di lavoro promuovere la mobilità sostenibile l'adesione al lavoro agile verrà su base volontaria e sarà valutata dall'ufficio risorse umane dopo l'approvazione del dirigente di riferimento l'accesso allo smart working sarà garantito in forma prioritaria ai neogenitori e ai dipendenti con figli in condizione di disabilità grave nuova puntata di Focus questa sera alle 21.15 ci saranno anche Alen Luciani Alessandro Manera Vivian Moro Valentina Pillon Enrico Scacco Luigi Susin Alessio Trentin quindi appuntamento con il nostro direttore a partire dalle 21.15 ora i vostri sms e le previsioni del tempo di domani chiudiamo il nostro telegiornale qui questa sera ringraziamo tutti voi per essere stati in nostra compagnia arrivederci a partire a partire Grazie a tutti.